ciao ciao a tutti un bacio a tutti scusate l'assenza ma ho avuto problemi con la linea internet e come se non bastasse anche con la linea privata di casa e isolati completamente con una linea che andava lentissima per quanto riguarda quella internet con una linea bloccata per quanto riguarda quella privata quindi non sono riuscita a caricare video speriamo che questa volta sia la volta buona sono felicissima oggi perché vi voglio far vedere una cosa dei regali questo è lo scatolone che lo contiene prima di iniziare però vi volevo raccontare una cosa una mia amica raffaella è la persona di cui vi sto per dire ha deciso l'anno scorso di omaggiarmi di un regalo fatto interamente da lei che io volevo condividere con voi ma lei mi disse mary che è un regalo privato non ti preoccupare lascia perdere io facevo ma tesoro ma è così bello che vorrei che anche gli altri ti conoscessero no io credo che youtube serve anche per questo no non solo per farsi vedere quante so bella quante so brava ma anche comunque proprio per condividere perché io grazie alla condivisione di alcuni video sono venuta a conoscenza di alcune cose ne ho viste altre ho imparato tanto di conseguenza credo che il video serva a questo più che diciamo tra virgolette passatemi la parola a vendersi a voi che guardate e quindi pubblicizzarsi in un qualche modo lei torna a ripetere lella mi disse io la chiamo lella un bacio lei lo sa le voglio bene ci siamo conosciute grazie al canale youtube lei fa parte di quelle persone che io conosco grazie a youtube non sapevo che lei avesse una pagina facebook un instagram io non sapevo niente perché lei non era legata a me per una questione di visibilità lei mi seguiva e basta andando avanti nella conoscenza ho capito che lei era oltre c'era qualcos'altro e dopo visto il magico mondo di nonna elide che è sua nonna era sua nonna ora vi spiego cerco un attimino di tirare un attimo il filo del discorso innanzitutto vi dico che sotto nell'info box metterò la pagina facebook di raffaella e la pagina instagram di raffa di raffaella dove potete tranquillamente andare a vedere tutti i lavori che lei fa lei cuce disegna crea fa tutto da sola dipinge lei ha fatto delle mostre ha avuto delle interviste lei è iniziato portando avanti il lavoro della nonna che era quello di cucire le bambole e io credo che sia già magico questo poi lei ha perfezionato la tecnica perché la nonna all'epoca cuciva le bambole per le bambine del paese cioè io credo che sia magica questa cosa e lei ha voluto portare avanti la tradizione della nonna ovviamente con gli studi moderni ha perfezionato delle tecniche e cosa secondo me più bella in assoluto lei ogni anno a luglio si reca in provenza per prendere la lavanda che è comunque l'elemento fondamentale delle sue creazioni le sue creazioni profumano profumano se quando io dico profumano e perché profumano perché vi arriva in un pacco a casa che profuma perché se voi aprite è un'esplosione nel primo pacco di petali rosa nel secondo pacco di coriandoli cioè io io sono rimasta estasiata dice rica perché non ci fai vedere vi faccio vedere però volevo un attimino riassumervi che cosa fa raffaella chi è raffaella che è una persona che fa anche moltissimi 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 regali è una persona con un cuore immenso è una persona che ha pensato sempre a me ha avuto sempre un pensiero per giulia lo ha dimostrato la prima volta e adesso io quindi da mamma a mamma cosa ti posso dire la ti ringrazio perché la bambina ha apprezzato tanto giulia per me sarà sempre la bambina per ogni mamma ogni proprio figlio è bambino scusate mi sto scusate ok scusate c'è stato un momento di defaianza mi sono lasciata prendere un attimo mi sono coinvolta troppo ma comunque l'ella è così quindi ti lascia coinvolgere quindi è una persona stupenda allora io volevo farvi vedere la bambola che mi ha regalato l'anno scorso per qualsiasi cosa raffaella c'è sempre perché lei risponde alla sua pagina facebook ad instagram e vi faccio vedere la prima bambola allora quindi così passiamo subito a farvi vedere che cosa stupenda che è allora questa è la prima bambola alzo un pochettino su ora vi faccio vedere anche il biglietto adesso scusate ma cercavo eccoci qua questa è la prima bambola che mi ha mi sono vista recapitare l'anno scorso ed è fatta interamente da lei con tessuti che vengono dalla francia delicatamente profumati a distanza di un anno lei profuma ancora perché mi ha detto raffaella all'interno delle cuciture della bambola ci sono i fiori di lavanda quindi già questo rimane comunque come elemento dominante della della bambola stessa questo profumo pitturata a mano completamente da lei fa dei corsi in tutta italia quindi è una persona che insegna anche l'arte della nonna non la tiene per sé ma insegna ed è bravissima ogni pezzettino posso dirlo ogni pezzettino è praticamente ricercato anche perché lei ha il laboratorio in casa quindi e non è un laboratorio dove c'è il tavolo con una sedia o un computer no no ci sono mobili antichi divani antichi c'è una credenza della nonna c'è è magico c'è il tappeto per il tavolino antico dove prendere il tè cioè lei lei è così ma è talmente così nella vita reale che poi si si riversa su tutto ciò che fa e queste sono le creazioni che lei anche accompagnate dalla musica di Ennio Morrigone che lei ascolta mentre crea queste sono le magie che abbiamo qua guardate qua che meraviglia Giulia è innamorata di questa bambolina le pittura lei fa tutto lei cuce lei fa tutto lei quindi questa è questa è la prima bambola e quindi già per me questo era un sogno perché comunque avere una bambola fatta in casa e qui si tratta proprio di arte perché questa è arte attenzione Raffaella anche il copyright non è comunque una persona che lo fa a livello di hobby c'è proprio tutto un lavoro dietro c'è proprio tutto un si parte con una passione ma che poi diventa proprio un vero lavoro quindi c'è proprio tutto un altro discorso questo è quello che lei crea e questo è quello che io mi sono vista recapitare l'anno scorso guardate perfetta non cambia di niente guardate perfetta nei minimi particolari io l'adoro che l'amo guardate è bella e morbida è proprio una bambina ecco e queste sono le bambole sulla falsa riga della nonna le bambole che la nonna faceva quindi dopo lei nell'evoluzione di tutte le cose ha creato questa quella dell'anno scorso vi faccio vedere la fatina che ha pensato di regalare a Giulia quest'anno allora mi sposto mi alzo spero che si veda ho lasciato questa tovaglietta di fondo perché giustamente una mia amica Dani Daniela ciao mi ha fatto notare che a causa della tovaglia non si vede bene ciò che è mostro quindi tenendo questa mini tovaglietta mi dovrò attrezzare perdonatemi mettendo questa mini tovaglietta sotto riesco a far vedere a percepire bene allora questo è ciò che mi è arrivato a casa questo scadolone eccolo qui questo è lo scadolone queste sono le varie letterine che erano dentro dopo riabbasso ovviamente il tutto l'asta perché così è sbilanciato è troppo alta allora questo era un pacchetto dopo vi faccio vedere è tutto comunque sicilato con la carta bolle guardate no vabbè ma voi dovete sentire il profumo quello che è il profumo e qui ci sono due pacchetti uno per me e uno per Giulia adesso quindi abbasso di nuovo l'asta pasticella così vi faccio vedere bene torna a ripetere perché così sono troppo sbilanciata perché purtroppo questo cavalletto si può chiamarsi in questo trespolino mi sta abbandonando allora parto subito facendovi vedere e sto così felice che non potete immaginare parto a farvi vedere subito quello che ha fatto per me mamma mia che meraviglia profuma ragazzi profuma guardate che bello mamma mia che profumo è stupendo quindi questo qui vedete la casetta di nonna elide è bellissimo mamma mia che profumo è stupendo è delicato è camomilla è fior di lotto è praticamente un calmante che viene utilizzato nella stanza dei neonati per ricreare quell'atmosfera proprio calda serena tranquilla e ragazzi io ce l'ho nella stanza creativa da una settimana questo pacco io ho la stanza che profuma profuma un oggetto del genere messo in una stanza questo nello specifico andrà sul comò e questo è favoloso messo anche in sacchetti più piccoli perché lei fa anche su ordinazione giustamente profuma i cassetti perché è favoloso questo è quello che ha fatto a me adesso vi faccio vedere quello che ha fatto a giulia sono tempestata di coriandoli l'ella stupendo eccoci qua ecco qua questa è quella che ha fatto a giulia e l'ha creata pensando a giulia guardate che meraviglia questa è favolosa questa ve la faccio vedere tutta bene guardate che bella guardate che bella la bacchetta con la farfalla che era la farfalla bianca e piaceva tantissimo alla nonna quindi lei la rimette comunque la farfalla è un elemento che troviamo nelle sue lavorazioni e nella prima bambola eccoci qua all'interno c'era anche questa farfalla con la casetta di nonna elide scritto e io l'ho messo sulla finestra in cucina è sempre con me questa farfalla quindi l'ho tirata giù per farvi vedere guardate che bella adesso nel particolare vi faccio vedere tutto cioè il profumo è favoloso mamma mia guardate che bella è bellissima tutto lei tutto fatto da lei andatela a conoscerla andatela a vedere tanto vedere non costa niente segnatevi alla pagina lei crea continuamente lei crea continuamente vedete il marchio dappertutto è favolosa è bellissima guardate io l'idea l'ella che sto praticamente maneggiando una cosa che hai toccato tu non lo so mi fa un non so che abbiamo promesso di vederci un domani io lo spero vivamente se dovesse trovarsi qui dalle mie parti per tenere qualche corso sarò la prima a raggiungerla perché comunque l'ella oltre che essere una persona d'ora è proprio un'amica io vi ringrazio di aver visto questo video vi ringrazio sono contenta che comunque avete conosciuto tramite me raffaella l'ella e vi mando un bacio e spero di non avere problemi più con la linea e di ritornare a fare video scusate stavo mettendo a posto tutto quando invece mi è ritornata davanti il sacchetto dico porca miseria vi voglio far vedere anche questo allora guardate che meraviglia mi ha regalato queste pinzette ma che io qui dietro voglio mettere la calamita e voglio appoggiare voglio attaccare proprio al frigorifero perché toglieremo adesso questo questo che è qui per mettere un altro insomma quindi comunque attaccherò questa al frigorifero insieme a queste che trovo siano favolose queste calamite qua con le emoji quindi anche queste tesoro io a me piacciono molto le calamite quindi questo regalone sul regalone no non è pensavo vetro ok quindi guardate che bello guardate che bello l'effetto che fa vi mando un bacio scusate è bello dimenticata